Stiamo vivendo il dramma del coronavirus, un incubo senza fine, certamente sotto l'aspetto epidemiologico. Se pensiamo a quello che sta accadendo in Brescia, Bergamo, Milano, davvero c'è da piangere. E parimenti al sud la situazione è preoccupante, speriamo che le misure ovviamente ci preservino, rallentino appunto il dilagare del virus. Ma il dramma è anche economico, perché le aziende, le imprese, le partite IVA sono in crisi. Un dramma per chi è imprenditore, un dramma ovviamente per i dipendenti. La cassa integrazione non basta, è un sistema che crolla. E' così, visto che c'è molto tempo, dovendo ovviamente osservare le misure di restrizione per quanto riguarda le nostre uscite, il social diventa un motivo di confronto, così anche per ingannare il tempo e per scoprire delle idee e delle proposte. Mi ha fatto davvero impressione, nel senso positivo, mi ha impressionato favorevolmente l'idea giusta, sacrosanta, pragmatica, lanciata da un imprenditore tarantino, Aldo San Germano, che è appunto il titolare della Fenice, il bar pasticceria noto a Taranto. Lui ha detto una cosa sacrosanta, lo ha scritto in un post sul suo profilo Facebook, ha detto Sì, ma l'Inps non potrà mai avere risorse infinite. Questi 600 euro sono un piccolo palliativo, ma non risolvono e non aggrediscono il problema. Piuttosto in questo momento di emergenza dovrebbero essere le banche a dare la propria disponibilità ai vari imprenditori che ovviamente farebbero ricorso alle stesse per fare fronte alle varie esigenze e le banche dovrebbero essere garantite dallo Stato. Quindi io imprenditore mi rivolgo alla banca perché da solo non ce la posso fare, perché le risorse dell'Inps non ce la possono fare e tu banca mi puoi venire incontro trovandoti in una posizione di garanzia, visto che questa garanzia ti viene offerta dallo Stato. Mi sembra una idea molto interessante, un modo per venirci tutti quanti incontro, per rimettere in piedi quell'ingranaggio che si chiama economia. Quell'economia, vedete, che non è fatta solo dai grandi complessi industriali, ma secondo me quella che è la microeconomia, cioè tutte quelle piccole realtà che però muovono il sistema, muovono appunto l'ingranaggio. Una bella idea. Devo dare atto ad Aldo San Germano di questa felice intuizione, almeno secondo me. Poi magari possiamo aprire un confronto, un dibattito su questa proposta per cercare di venirne fuori. E sono favorevole a questa idea per un semplice motivo, perché giustamente dice il nostro amico imprenditore, dice noi non vogliamo l'elemosina, non vogliamo l'assistenzialismo, noi vogliamo andare avanti con le nostre forze. Però dateci il modo per poterci riprendere. È un po' come dire, io sono un pescatore, non vi sto chiedendo di darmi il secchio con 5 o 6 pesci al giorno, prestatemi delle canne per poter andare a pescare e io piano piano poi ovviamente potrò saldare i vari debiti che ho appunto contratto. E ovviamente la banca, le banche che hanno comunque una loro forza, possono tranquillamente venirmi incontro, perché hanno una garanzia e questa garanzia ovviamente si chiama Stato italiano. Voglio leggere alcuni, vi leggerò a breve qualche stralcio di questo post e voglio anche precisare una cosa, che lungi da me alcun intento propagandistico di pubblicità per la Fenice. Non è questa la sede, non è questo il momento e non è questo lo spirito, ci mancherebbe altro. Ho voluto soltanto così estendere, ampliare una bella idea. I nostri governanti potrebbero prenderne spunto, perché vedete, ho visto tante belle parole, belle idee, progetti, parole, così, ma alla fine bisogna dare delle soluzioni concrete, perché lo ripeto, l'Inps non ha risorse infinite. L'Inps a un certo punto dirà giustamente, signori cari, io più di tanto non posso fare. E allora questa idea di Aldo San Germano è un'idea interessante, concreta, lo sottolineo di nuovo, è un'idea pragmatica. Io fossi in chi, come dire, alle redini dell'economia, con tutto il rispetto per carità, parliamo di grossi uomini della scienza economica e finanziaria, la considererei. Ho apprezzato l'idea di Aldo San Germano, perché lui giustamente dice, io sono un uomo della strada, la mia laurea è la strada, io mi interfaccio ogni giorno con le persone di tutte le estrazioni e i ceti sociali e allora ho proprio il polso, il contatto diretto, il termometro della situazione. Ha dato una bella idea, io la ritengo estremamente interessante. Sentiamo intanto questo stralcio. Dice San Germano Sul mio profilo è scritto, ho studiato sulla strada e vengo dal marciapiede. Non mi faccio grande e ne voglio essere, quindi rimanendo tale voglio capire alcune cose. Sento da oltre un mese e mezzo che lo Stato garantirà cassa integrazione in deroga a tutti, garantirà 600 euro a tutte le partite IVA, garantirà il congedo parentale a chi lo chiede, garantirà comunque le pensioni e tutto ciò che INPS gestisce. Concedetemi il dubbio, concedetemi il panico. Impresa non difficile, non ardua, ma semplicemente impossibile, soprattutto se aggiungi che lo Stato non incasserà tutti i tributi di qualsiasi genere ed importo. Ecco perché l'Europa ci ha detto no. Qui di fronte a questo schifo ci sarebbero da dire tante cose, ma lascio perdere. Allora, quale sarebbe la soluzione o le azioni che potrebbero aiutarci? Soluzioni che noi dobbiamo trovare senza chiedere niente a nessuno. Allora mi chiedo, può lo Stato darci tanti, ma tanti soldi per un periodo di tempo senza incassare niente e con un debito fuori da ogni immaginazione? No, non può. Se avessimo la nostra lira stamperemmo moneta facendo fronte a ciò che serve. Aumenterebbe l'inflazione, ma avremmo tempo dopo per sistemarla. Allora l'altra soluzione? Vi domando, quali sono gli organi che sono pieni di soldi? Le banche. Lo Stato dovrebbe solamente garantire le banche di quello che ogni azienda avrebbe bisogno. Queste dovrebbero preparare un piano del loro fabbisogno, compresi gli stipendi. Fitti, bollette, tasse, quindi lo Stato continuerebbe ad incassare e non ad indebitarsi. Il commerciante o il richiedente, con la garanzia dello Stato, avrebbe tutto il tempo di rientrare del suo prestito, le aziende continuerebbero, nessuno perderebbe il posto di lavoro e sul mercato ci sarebbe una immissione di danaro, notevole, altro che recessione. Le banche farebbero ciò che devono fare, vendere soldi. Lo Stato non tirerebbe niente fuori, ma solo in caso di inadempienza di qualcuno. Non sono un economista, conclude San Germano, ma solamente uno che ha camminato tanto e, credetemi, ne ho fatta tanta di strada. Beh, io la ritengo una proposta interessante. Chissà, magari anche tanti imprenditori potrebbero condividerla.